Un ingendio di Sterpaglia ha interessato la zona di Agenda e il Viale Emporium di Agrigento. Le fiamme, alimentate dalle forti raffiche di vento, si sono alzate fino al sovrastante viadotto della strada statale 640 nei pressi del Bivio per San Leone. Un tratto di strada a causa dell'intenso fumo è stata chiusa dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Agrigento che hanno poi regolamentato il traffico veicolare. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale ed il corpo forestale. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Le fiamme, oltre ad interessare le Sterpaglie, hanno anche avvolto alcuni alberi.